Chiaramente ci siamo confrontati anche, e concludo, sulle grandi sfide al centro dell'agenda internazionale a partire dalla questione della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, ma anche la questione medio orientale. Come sapete sono anche temi che porteremo al centro della nostra presidenza G7. Abbiamo riaffermato il nostro comune impegno a rafforzare le legittime capacità di difesa dell'Ucraina come condizione indispensabile per raggiungere quella pace giusta alla quale tutti aneliamo. E quindi grazie Peter, grazie Primo Ministro per questa importante bella occasione di confronto.